Oggi 4 giugno 2022 dichiariamo ufficialmente aperta la prima edizione di Cartacea, festa del Tissue, carta e cartone! Taglio del nastro in piazza Felice Orsi a Porcari per Cartacea, la due giorni dedicata alla carta in tutte le sue declinazioni. All'interno della cittadella della carta realizzata dai fratelli Cinquini, premiati carristi di Viareggio, c'è stata la possibilità di passeggiare tra le bancarelle del mercatino artigiano, vedere come si ricicla la carta grazie agli studenti del tecnologico Benedetti, mangiare le prelibatezze preparate dagli allievi dell'Isibarga. Voi vi direte cosa c'entra la cucina con la carta? C'entra! C'entra come? Perché gli alimenti devono essere conservati negli imballaggi, cioè nel famoso packaging che ora deve essere ecosostenibile, carte e cartone ne sono. Ma perché Cartacea proprio a Porcari? Perché è qui il distretto più importante d'Europa, cartario, ma non solo d'Europa anche mondiale, ormai è diventato un punto di riferimento per il settore meccanico, cartotecnico e cartario in generale. Quindi benvenuti a Cartacea! La manifestazione prosegue anche domani, domenica, con un ricco programma. Avremo come al solito la Cittadella, sul palco la Gaudax Band, il libro di Clive e poi faremo la carta, ci sarà una mostra sulla carta di ieri, oggi e domani, stand gastronomici. Insomma, sarà il grande tripudio a quello che è il tesoro di Porcari, la carta.